Sul Gargano e nelle aree interne dei Monti Downi, in vista dell'estate, sarà aumentato il presidio e l'assistenza? Sì, sì, ha aumentato. Abbiamo recuperato anche un gap che era quello dei medici del 118. Quando sono arrivato ho fatto il primo piano di emergenza, proprio appena sono arrivato ho trovato questa difficoltà e quindi erano 19 i medici che mancavano su 127 il complessivo, adesso siamo arrivati a 10 ma con uno sforzo che potete immaginare perché Foggia e soprattutto le postazioni che abbiamo sul Gargano, che sono bellissime da frequentare come turisti però hanno poca attrattività da parte dei medici e comunque siamo nella condizione ormai di poter dire che la grossa criticità che avevamo negli anni passati l'abbiamo... E i miei collaboratori continuano a chiamare quotidianamente medici per tentare di coprire anche quelle altre 10 postazioni che in questo momento sono scoperte ma vengono vicariate dal personale che c'è con dei turni in più eccetera. Avete potenziato anche l'elisoccorso? L'elisoccorso è con me al terzo anno di sperimentazione, la sperimentazione è servita e anche quella di quest'anno servirà per dare evidenza scientifica della sua utilità e tant'è che abbiamo già inoltrato richiesta alla regione per poter stabilizzare quindi i quattro mesi dell'elicottero, del secondo elicottero per fronteggiare un turismo che noi speriamo aumenti ancora di più. Nuove assunzioni ce ne sono state, ce ne saranno? Le nuove assunzioni ci sono, ce ne saranno, proprio dove abbiamo anche avuto finanziamenti e deroghe però facciamo molta fatica, le figure sono sempre le stesse, ormai ci lamentiamo tutti i direttori ho capito che si lamentano anche quelli delle regioni confinanti come la Basilicata cioè esiste proprio una criticità endemica su alcune figure come quelle degli anestesisti dei medici di pronto soccorso soprattutto, dei medici radiologi e in questo momento devo dire anche un po' paradossalmente perché non me lo sarei mai aspettato degli ortopedici.